Si intensificano i controlli da parte della Polizia Municipale sulle soste selvagge nel centro di Pistoia e soprattutto sul corretto utilizzo dei contrassegni riservati ai disabili affinché non sia fatto un uso distorto da chi non ne ha diritto. Proprio nel fine settimana, durante un servizio in via della Costituzione, gli agenti della Polizia Municipale di Pistoia hanno individuato un'autovettura che esponeva un tagliando parzialmente illegibile e che era in sosta su uno stallo disabili personalizzato. Mentre gli agenti erano intenti ad accertare l'effettiva validità del permesso, è arrivata l'utilizzatrice del mezzo, una donna residente fuori città, che su richiesta ha consegnato il contrassegno per la verifica. È stato così possibile accertare che si trattava di un esemplare falso, copia di un tagliando regolarmente rilasciato, plastificato e ben fatto, che riportava sia l'indicazione dell'ente che lo aveva rilasciato, sia la foto della persona invalida, subito contattata, che in realtà si trovava a casa, fuori dalla comune di Pistoia. Gli agenti hanno quindi sequestrato il contrassegno. Per la donna, figlia dell'avente diritto, è scattata la denuncia per uso di atto falso e la sanzione prevista dal Codice della Strada per utilizzo improprio di stallo riservato a persona disabile.